Ciao sono Barbara e lei Osvi, ve la ricordate la nostra pulcina? Adesso vi racconto brevemente come è arrivata. Questa è la sua incubatrice, l'abbiamo comprata online e l'abbiamo sistemata sui 38 gradi. Poi abbiamo aperto e abbiamo inserito all'interno 4 uova fertili. Ce la date un avicoltore, cioè chi alleva le galline. Dopo alcuni giorni in una si era formata la vita o illuminandola si vedeva qualcosa all'interno che si muoveva. E dopo 21 giorni il pulcino aveva bucato l'uovo. E la mattina dopo... Eccolo, eccolo, ha rotto un altro pezzetto. Oddio, si vede, si vede, si vede. Oddio, 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 oddio. Scusate, è troppo emozionante. Eccolo, eccolo, amore. Oddio. Oh, amore. Ma quanto sei bello. Carino, vero? Se non hai visto ancora il video completo lo trovi nel mio canale YouTube. Se mi lascia un like mi fa piacere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!